i colpi dai ok più veloci più veloci i colpi dai sotto e sopra sotto e sopra sotto e sopra ok montante sotto montante sopra però lascialo lascialo ok allume colpi ora ok allume destro alto destro alto destro in pancia ok toglilo toglilo togli il jab attento attento muovi un po' gioca giocca muovi perché abbassi la testa e lui te la spinge giù capito toglilo adesso toglilo a destra e gancia toglilo subito a destra e gancia dai dai muoviti saltella 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 tira sulla testa gira esci di lato jab montante e gancia ok yes copriti 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 se vai indietro ci cade fuori dal ring lega lega subito quando senti più lega raffica 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 quando sei corta distanza lavora sotto e sopra con i due montanti lavora la corta distanza con i montanti verso sinistra come hai fatto prima a vuoto come hai fatto prima a vuoto dai abbassa la testa e solleva le mani ecco così lavora sotto e lavora con i montanti bravo copriti raffica di montanti ok ma non solo uno anche l'altro avvicinati col jab e poi boom 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 dai sotto e sopra sotto e sopra sotto e sopra sopra sotto due poi sopra scoperto sopra chiule mai copriti la faccia dai saltella 4 colpi lavora 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 con i montanti lavora lavora con il montante desco sinistro anche sinistro anche sinistro invece di legare lavora bam bam lavora doppiato forza dai muoviti come prima muoviti come prima dai le devi fare addominali e mano non ce li hai segnati ancora quella mano destra tiralo il colpo non rimane niente farlo lavorare stringilo il colpo non colpire la nuca non colpire qua colpici qua dai dai muoviti non dare a bersaglio fisso muovi il tronco muovi il tronco muovi il tronco muovi il tronco tindes l'argo ok questo devi fare muovi il tronco bravo gioca 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 rientra toglglielo toglglielo che rimani fermo così toglglielo quella mano toglili quella mano la sinistra toglili la sinistra e rientra dai muoviti 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 che se il fermo è peggio muoviti sotto e sopra sotto e sopra tieni il destra alto tieni il destra alto sinistra alto adesso se ti tira il sinistro il destra il jab toglielo muoviti muoviti fai finta che non sei pronto muoviti invece sei pronto come arriva il colpo toglielo dai muoviti muoviti di più avanzando muoviti avanzando muoviti avanzando muoviti avanzando quello glielo devi togliere è un jab ehi hai un jab destro perché lui è mancino è un jab è davanti un jab go 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 adesso adesso è in guardia normale vedi devi stare chiuso così e toglierlo chiuso così e toglierlo o glielo blocchio o glielo toglie 30 secondi dai tutto che ci ne andiamo sotto e sopra 30 secondi vai attento muoviti muoviti tira col più forte che ci ne andiamo dai ok bravo devi entrare ma poi continua l'azione dai forte e veloce forte e veloce che ci ne andiamo dai colpisci col destro colpisci col destro colpisci col destro ora il destro c'entrava in faccia ma dovevi approfittarne quando eri sotto chiuso dovevi approfittarne adesso non arriva adesso non è la nuca in faccia dai 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 mani dai dai destro destro gancio stretto destro gancio stretto destro gancio stretto dai copriti destro ora destro 10 secondi ci ne andiamo dai dai tutto dai tutto toglilo con la mano tesa rispondi rispondi col destro col gancio destro corto quello più veloce però se lo tiri piano non andrà mai pienso la mano stop